Pronto? Pronto con la radio popolare? No Roberto, anche oggi non è radio popolare, è Cristal Radio e lei sbaglia come sempre a fare il numero Ma pronto? Io ho chiamato il numero di radio popolare, 02 Radio Popolare No, non è 02, è Radio Popolare sicuramente, gliel'abbiamo mandato noi settimana scorsa Non so che numero avete dato, io ho chiamato il numero che mi avete dato voi, 02 Radio Popolare Comunque è su Cristal Radio anche oggi Che radio è questa? Cristal Radio, io sono sempre Io non so chi sia lei, lo ignoro completamente ma non voglio avere affinità col potere, scuroco sicuramente E colluso sicuramente Non si permette Ma io sono ben contento di essere qui su Radio Crista, Cristal Radio Non ci sono compagni a Cristal Radio I compagni sono ovunque, anche su Cristal Radio Allora lei come al solito ha chiamato il momento in cui per sbaglio evidentemente Lei è al bagno, non possiamo chiamare? Stiamo tenendo una trasmissione, anzi lei è in diretta quindi Sono in diretta, posso salutare a casa, posso salutare i compagni del Circo della Bovisa I compagni del Circo della Bovisa, i compagni del Circo della Bovisa Che sono in tanti tra l'altro Sono in tanti, votano insieme a noi e ci troviamo questa sera alle 21.30 a Radio Popolare Perché domani invece 9.30 presidio E si c'è il presidio di protesta Non voglio sapere niente Protestiamo domani No non glielo chiedo Per protestare Per il diritto alla protesta Lei ha chiamato nel momento in cui stiamo per regalare dei biglietti Ah li vuole vincere? Li vuole vincere? Vuole andare a un concerto? Che concerto vuole andare? Allora l'ultimo concerto l'ho visto nel 74 Ma il Palla Euro e Raguccini Avevo idea Avevo idea Poi non ho più visto un concerto Perché non c'è più la musica di una volta, capisci compagno? Pensa, noi adesso le regaliamo i biglietti per il gruppo più famoso al mondo I Rolling Stones No Quelli mi piacciono Devo dire un po' capitalista Ma ci sta Rolling Stones, si può ascoltare I BTS Li conosci? Sono un gruppo I BTC I CCT I POT Sono i buoni di Stato Sono È un gruppo Che di pop coreano Grande la Corea Ebbè la Corea È uno dei più grandi paesi del mondo Sempre in lotta Sempre per la grande Voglia di libertà Indipendenza Che la Corea vuole Peccato poi per quell'altro paese Che usurpa il nome della Corea La Corea del Sud Che vuole usurpare Il grande leader maximo Ho vinto i biglietti Non può dire queste cose assolutamente Ha vinto E che adesso stacchiamo Per favore Grazie Regia Grazie 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 a tutti Grazie a tutti